Bene ragazzi, e ora andiamo a rivedere che cos'è la frazione complementare ad una frazione data. Prendiamo in esame una frazione, per esempio, tre quarti. Tre quarti non rappresenta un intero, ma l'intero invece da quale frazione è rappresentata? Tre quarti vuol dire che io divido un intero in quattro parti e ne prendo in considerazione soltanto tre. Quante parti mancano a formare un intero? Facciamo un disegno. Ci aiutiamo con un disegno. Io ho una tavoletta di cioccolato, la divido in, che è formata da quattro parti uguali. E ne prendo in considerazione soltanto tre. Una, due, tre. Qual è la frazione che manca per formare un intero? Una parte soltanto. Quindi in questo caso, tre quarti più un quarto, la coloriamo per esempio in arancione, fanno un intero, fanno uno, ok? Quindi un quarto è la frazione complementare a tre quarti, perché è la frazione che manca per formare un intero, va bene? Andiamo a vedere qualche altro esempio. Per esempio, se io ho cinque ottavi, quindi ho un oggetto, facciamo per esempio una bella pizza al metro. E la divido in cinque, in otto parti. E ne mangio cinque parti. Una, due, tre, quattro, cinque. Qual è la frazione complementare? Qual è la frazione che mi indica quante parti mancano per formare un intero? Questa frazione basta fare otto meno cinque e ottengo tre. Tre parti di una pizza divisa in otto. Quindi tre ottavi, tre ottavi è la frazione complementare a cinque ottavi. Cioè cinque ottavi più tre ottavi fa un intero, ok? Allora, quindi ricapitolando e usando le parole del libro, che cos'è una frazione complementare? La frazione complementare di una frazione propria è quella che esprime la parte che completa l'intero. Quindi è quella che completa l'intero, va bene? Che sarebbe appunto, in questo caso, tre parti di un intero diviso in otto parti. Quindi tre ottavi. Vi ricordo che il numeratore indica il numero di parti che prendo in considerazione. Il denominatore indica il numero di fette uguali in cui è stato diviso l'intero. Va bene? Ok, ora segniamo i compiti. Allora, per i due video precedenti, no, per il video precedente, che trattava le frazioni proprie e impropri apparenti, mi studiate la teoria su esatto a pagina 302, studiare pagina 302, su esatto, e mi fate tutti gli esercizi di pagina 303. Poi mi fate pagina 304, studiate pagina 304, la frazione come quoziente, e mi fate tutti gli esercizi di pagina 305. E poi mi fate pagina 306, la frazione complementare, e tutti gli esercizi di pagina 307. Invece, per chi ha il libro Digimat, mi fate la teoria di pagina 272, frazioni proprie, impropri e apparenti, e tutti gli esercizi di pagina 273. Poi mi fate la teoria, mi studiate pagina 274, la frazione come quoziente, e tutti gli esercizi di pagina 275. Poi studiate pagina 276, la frazione complementare, e tutti gli esercizi relativi di pagina 277. Mi raccomando, per ogni video dovete prendere appunti, fare la foto, registrarvi mentre ripetete, e inviarmi le immagini dei compiti svolti, degli appunti, e i file audio che avete fatto ripetendo tutta la teoria. Mi raccomando, tre tipi di documenti mi dovete restituire. Buon lavoro!